Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa collaterale da cui partivano quelle grosse vene, eccole qua, una e questa che è rimasta in terra, eccole qua, queste qui sono quelle, qui c'è una collaterale, vedete che non c'è più niente. Grazie a tutti. E poi c'è lo sbocco dell'epigastrica. E' sempre così, perché poi dopo si aggiusta lei sotto... Un centimetro. Ma è proporzionata secondo che c'è l'epigastrica, qui c'è un'epigastrica molto... Anche quella di prima, se vi ricordate, era proprio appena sopra lo sbocco della valvola, vedete? Quella via epigastrica, qui d'arena, questa è l'arena femorale, completamente comprimibile.